Il lupo è tornato in Brianza dopo i sospetti nel corso dell'estate, la prova riscontrata in alcune pecore sbranate negli scorsi giorni nel territorio del parco del Curone. Sto bene in questa casa di riposo ma vorrei tornare nella mia. Carlo Gilardi, lo ha detto il giudice tutelare, rinnovata la fiducia nell'amministratore di sostegno Elena Barra. Auser lancia un progetto per unire le generazioni, nonni e studenti riscopriranno insieme il valore della lettura grazie a Giovane Chi Legge. Ripercorriamo insieme le notizie principali del 2020. Nell'anno della pandemia il record di visualizzazioni lo segnano le 3.000 pecore che a maggio hanno attraversato la nostra città. Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unica Lecco. Il lupo è tornato in Brianza, le prove trovate in alcune pecore sbranate nel territorio del parco del Curone. Ora gli esperti stanno lavorando per rendere sostenibile la sua presenza nel nostro territorio. Il lupo è tornato in Brianza, i sospetti c'erano dalla scorsa estate ma ora si hanno le prove. L'analisi su alcune pecore al pascolo trovate morte nel territorio del parco di Montevecchia ha confermato la presenza dell'animale nella nostra provincia. Si tratta di pochi esemplari, dichiara il presidente del parco Malcom Olgora o forse di uno solo che probabilmente nei giorni della sospensione delle attività durante il lockdown primaverile, in assenza di traffico delle strade, si è allontanato dalle prealpico masche per esplorare nuove aree. La ricomparsa del lupo nelle colline è un fenomeno in corso a livello europeo. Il lupo prosegue a Molgora e è tornato in area appenniniche e alpine a forte frequentazione turistica, proprio come il parco del Curone, dove però evita il contatto con l'uomo. Trattandosi solo di individui isolati è possibile che possano allontanarsi volontariamente da quest'area per tornare verso nord. Servono dunque ulteriori precauzioni come il divieto assoluto di ricerca dell'animale e l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio durante le escursioni in area aperte. Il parco, conclude Molgora, è impegnato insieme ai tecnici di regione e dell'ente forestale, i ricercatori universitari, i carabinieri e la polizia provinciale a studiare soluzioni per consentire la sostenibilità della presenza del lupo, oltre che fornire agli allevamenti presenti, le informazioni per prevenire l'attacco degli animali al pascolo e per accedere agli indennizi in caso di danni accertati. Paura nella serata di ieri a Santa Mariae, un incendio si è sviluppato all'interno di un garage di un condominio situato in via Corsia, mercato a prendere fuoco, un'automobile completamente distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con 4 automezzi e 14 uomini pompieri hanno provveduto ad evacuare per precauzione l'intera palazzina in attesa che l'incendio venisse domato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Si trova bene nella casa di riposo dove è ricoverato ma vorrebbe tornare a vivere da solo, un desiderio per ora impossibile a causa della condizione degli immobili di proprietà e della presenza al loro interno di persone imputate per circonvenzione di incapace. Carlo Gilardi, il novantenne benefattore di Airuno al centro di un caso mediatico nazionale, ha incontrato il suo giudice tutelare. Sentiamo. Nella casa di riposo in cui si trova Carlo Gilardi sta bene, vorrebbe però tornare a vivere da solo ad Airuno ma al momento non lo può fare per due ragioni. La prima è la condizione precaria degli immobili di sua proprietà, la seconda è che negli stessi oggi vivono persone da lui beneficiate in passato, alcune con precedenti penali, imputate nel procedimento per circonvenzione di incapace a danno dello stesso Gilardi. Dopo tanto clamore e altrettante supposizioni, il quadro più nitido sulla vicenda del novantenne benefattore di Airuno emerge dal decreto con il quale il giudice del Tribunale di Lecco, Marta Paganini, ha ricettato la richiesta degli avvocati Silvia e Marcella Gazzi di revocare alla collega Elena Barra l'incarico di amministratore di sostegno dell'anziano professore, uomo di notevole cultura ma come accertato da una perizia super partes, non in grado di badare a se stesso. Il giudice per valutare la richiesta lo scorso 15 dicembre ha incontrato Gilardi, l'anziano professore oltre a rinnovare la stima e il rispetto nei confronti dell'avvocato Barra, si è scusato anche per i cattivi pensieri nutriti in passato nei suoi confronti. sempre nel decreto il giudice tutelare certifica che il ricovero dell'anziano nella casa di riposo è avvenuto senza alcun impiego della forza né tanto meno alcun trattamento sanitario obbligatorio. Gilardi ha dichiarato di trovarsi molto bene sia moralmente sia fisicamente negli istituti Erodi e Muzzi e di trarre giovamento dal potersi dedicare alla lettura, dall'attività motoria e dall'alimentazione sana. L'anziano professore ha ribadito però il giudice di voler tornare a casa propria, un progetto al quale tutti gli attori coinvolti stanno lavorando. ma che non potrà concretizzarsi finché non ci saranno le condizioni di sicurezza perché Gilardi possa vivere la sua vita per quanto possibile in autonomia, senza pericoli e condizionamenti. Non ce l'ha fatta Nadia Perrucchini, la fiorista di piazza 20 Settembre a Lecco, colpita martedì mattina da arresto cardiaco. La donna era stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti che avevano provato a rianimarla anche grazie a un defibrillatore trasportato all'ospedale Manzoni in codice rosso. La sessantenne si è spenta purtroppo questa mattina. Cambiamo argomento, hanno da dimenticare per l'agricoltura del nostro territorio. La pandemia ha travolto l'intero comparto con i locali chiusi e il turismo fermo che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Ci siamo attrezzati per vendere online, spiega il presidente di Coldiretti Fortunato Trezzi. Ma non è bastato. Per l'agricoltura delle due province lariane è stato un anno difficile. Colpa soprattutto dell'emergenza covid, che ha investito l'intero comparto agroalimentare e turistico. Per di più, il bilancio si aggrava in questi giorni di zona rossa, con i locali chiusi al pubblico e il turismo azzerato nel cuore della stagione invernale. È il drammatico bilancio del 2020 tracciato dal presidente di Coldiretti Comolecco, Fortunato Trezzi. Le difficoltà legate all'emergenza covid sono state pesanti, spiega. Sin dai giorni del primo lockdown ci sono state forti limitazioni per la logistica. Tutti i settori sono in sofferenza, non solo quelli legati all'agroalimentare. Una delle immagini simbolo restano i fiori distrutti nei vivai lariani in primavera, aggiunge Trezzi. Immagini che fanno male e che evidenziano le proporzioni di una crisi mai vista. L'agricoltura ha dovuto riconvertirsi in tempo zero, ad esempio con la consegna a domicilio di prodotti agricoli. Lo abbiamo fatto a marzo, spiega il presidente di Coldiretti. Lo facciamo in queste settimane, con un elenco in continuo aggiornamento che tutti possono consultare sul nostro sito web comotrattinolecco.coldiretti.it o sulla pagina Facebook Coldiretti Comolecco. Alle chiusure di ristoranti e agriturismi, conclude il numero uno degli agricoltori, si assomma l'interruzione dei flussi di visitatori che raggiungono le valli, con perdite economiche ancora più marcate. Certamente una situazione critica la vive il comparto vitivinicolo, che trova un notevole sbocco di mercato nella ristorazione. Le scuole secondarie ripartono con la didattica in presenza al 50% dal prossimo 7 gennaio. Per il periodo compreso proprio tra il 7 e il 15 gennaio 2021, spiega la prefettura di Recco, il 25% dagli studenti entrerà in classe alle 8, l'altro 25% alle 9.40. Permane quale unica eccezione, quella per l'Istituto Scolastico Superiore di Colico, per il quale è stato mantenuto un unico ingresso alle 8.00. Dal teatro alla musica, passando per i 100 anni della Moto Guzzi, l'amministrazione comunale di Mandello presenta le iniziative culturali per il 2021. Ripartiremo con proposte che coinvolgano adulti e bambini, spiega l'assessore Doriana Pacchera. Investire energie e risorse economiche nella convinzione che la cultura e il turismo vadano sostenuti a favore della vita sociale, della cittadinanza e della valorizzazione del territorio. L'amministrazione comunale di Mandello dell'Ario ha presentato in quest'ottica il ricco calendario di iniziative culturali per il 2021, una programmazione che si definirà nelle date secondo l'evolversi dell'emergenza sanitaria che quest'anno ha bloccato l'attività di musei, cinema e teatri. Ci sarà spazio per le rassegne teatrali per adulti e bambini e un evento musicale speciale, ovvero il tributo a Claudio Baglioni del cantautore Igor Minerva. Non mancheranno il Festival della letteratura, con spettacoli dedicati a Gianni Rodari, gli appuntamenti di Leggermente in Magimondo e i festeggiamenti per i 100 anni della Moto Guzzi. Grazie poi alla collaborazione con la Scuola di Musica San Lorenzo e l'associazione Res Musica è in programma un ventaglio di proposte che vanno dalla lirica alla musica concertistica. Nel momento opportuno tutto riprenderà, quindi cercheremo di accontentare anche vari tipi di spettatori, dalla comicità alla fiaba, alla fantasia, anche alla musica. Abbiamo questa rassegna teatrale abbastanza importante perché abbiamo nomi come Massironi, come Finocchiaro e altri, da Cornacchione per metterci quel tocco di comicità, che comunque non arriverà mai alla volgarità. E poi stiamo preparando degli eventi musicali veramente importanti, una Martes Air Class di flauto con nomi veramente paud, per esempio, che arriveranno qui. Per ottobre avremo quasi una settimana di concerti sul territorio di Mandello, ecco, per portare un tocco di musica classica e di raffinatezza nel nostro paese. In vista della notte di San Silvestro, il comune di Lecco ricorda il divieto di accensione di fuochi d'artificio, petardi e giochi pirotecnici. Vige inoltre il coprifuoco dalle 22 alle 7 di domani mattina. Il libro unisce le generazioni. Hauser volontariato provinciale Lecco lancia un originale progetto Giovane chi legge. Noni e studenti riscopriranno insieme il valore della lettura. Anziani e giovani uniti nella lettura. Hauser Lecco, insieme a Legambiente e Istituto Tecnico Badoni, grazie al Bando Cultura della Fondazione Cariplo, promuove un originale progetto. Giovane chi legge, il nome dell'iniziativa, che si pone l'obiettivo di creare momenti di contatto e di condivisione tra generazioni, per leggere insieme e scambiare opinioni e idee. Un incontro importante per gli anziani che possono uscire dall'isolamento e beneficiare degli effetti positivi che la lettura ha, ma anche per gli studenti coinvolti, che possono imparare a rapportarsi con gli anziani ed ascoltare le loro esigenze, sperimentando l'empatia con un mondo distante da loro. Durante la fase iniziale, grazie agli alunni dell'Istituto Badoni e ai loro insegnanti, verranno condotte letture in rete dei promessi sposi e si stimolerà la creazione di gruppi di lettura sostenuta dai volontari Hauser. Si passerà poi gli incontri con gli autori, seguiti da dibattiti sui testi. L'importanza di stimolare nuove forme di fruizione e avvicinamento al libro coincide con la lettura del territorio, il suo paesaggio e la natura. Il terzo slot di attività dunque, in collaborazione con Lega Ambiente, prevede diversi eventi sul territorio, tra cui trekking urbani con tappe di lettura teatrate o musicate, eventi di lettura pubblica in luoghi suggestivi, flash mob e letture di libri a tema naturalistico ambientale. Il libro è un ponte tra generazioni, mantiene elastica la mente degli anziani e può permettere di instaurare relazioni con i più giovani, suscitando riflessioni ed emozioni. Il commento del presidente di Hauser, Claudio Dossi. Un anno segnato dalla pandemia, si chiude un 2020 drammatico per il nostro territorio che conta quasi 700 vittime per il Covid-19, ma tante altre notizie negative e positive hanno animato questi 12 mesi. Vediamo. Un anno segnato dalla pandemia, si chiude un 2020 che resterà nella storia per i devastanti effetti del Covid-19. 82 milioni di contagi e quasi 2 milioni di morti in tutto il pianeta, 13.000 positivi e 689 decessi ad oggi in provincia di Lecco. Nella nostra sintesi speciale, in onda il primo gennaio a partire da mezzogiorno, riviviamo 12 mesi di notizie. Il primo caso di coronavirus nel Lecchese, servizio del 26 febbraio, poi le cartoline della città in quarantena, a metà marzo, fino al V-Day di qualche giorno fa. In mezzo agli altri fatti che hanno segnato questo 2020, avvenimenti tragici come il terribile omicidio di due gemelli di 12 anni da parte del padre, Amarnio, la morte della 19enne Chiara Papini, investita da un'auto, il deragliamento del treno a Paderno Dadda, ma incredibile a dirsi. L'anno che volge al termine ha regalato anche qualche gioia al nostro territorio. La nascita di un bimbo a Morterone, a 5 anni dall'ultima volta, l'inaugurazione del nuovo atteso Cavacca via di Sella a Civate. Tra i 12 servizi che vedrete nella nostra sintesi speciale, spazio anche alla poesia. Hanno fatto il giro del mondo le oniriche immagini della maxi transumanza che ha attraversato Lecco a maggio, protagoniste oltre 3.000 pecore. Non la pandemia o altre notizie di cronaca, proprio i servizi dedicati alla straordinaria transumanza sono stati i più visti sulla nostra pagina Facebook nel 2020, con un milione e mezzo di visualizzazioni complessive. La bellezza e lo stupore hanno battuto preoccupazioni e angosce, un buon auspicio per un 2021 di rinascita. E sono diverse le proposte in palinsesto dalla nostra emittente per la giornata di domani. E sono diverse le proposte in palinsesto dalla nostra emittente per la giornata di domani. Alle 10 la Santa Messa, in diretta dalla Basilica di San Nicolò, seguirà alle 12 con il replica alle 21 e il concerto di Capodanno del corpo musicale. Manzoni durante la giornata, vi segnaliamo inoltre una puntata speciale di Itinerari Stori in onda alle 11 e 20. Ecco una breve anticipazione. Siamo dunque arrivati ad Avano, nel centro storico, e ci troviamo qui precisamente in una delle case più vecchie del paese. Quanti anni avrà questa casa? E questa casa qui ne avrà anche 250, 250 anni, perché io ricordo i noni, i bisnoni, sono sempre stati qua. Perché è una casa robusta, fatta tutta di sassi. Natale una volta era poverissimo, non c'era niente, non c'era regali, non c'era né per i bambini, per i grandi non c'era niente, però le tradizioni c'erano. Oggi il Natale è cambiato completamente, tu però cosa hai imparato da tua nonna? Ho imparato sicuramente ad accettare le piccole cose, anche se io adesso vivo nella comodità. Ho imparato l'amore per la campagna, per la montagna, per il lavoro duro. Ho apprezzato il lavoro duro e anche adesso, anche se ho molte comodità, però comunque mi piace lo stesso andare a fare i vecchi lavori di una volta. Piccole soddisfazioni che mi ha intramandato mia nonna e devo solo ringraziarla che ho questi valori. Termina così questa edizione del nostro notiziario, grazie ancora per averci seguito, vi rinnovo la possibilità di rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro sito e nei nostri social. Chiudo con l'augurio da parte di tutta la redazione e di tutto lo staff tecnico di Unicaleco, a voi di un sereno 2021.